Buonasera, questa sera avremo l'occasione di collegarci in diretta con i due personaggi che vi abbiamo già presentato alle volte precedenti, si tratta del mago di Ars e dell'Arzo Matto. Chiedo alla regia di farmi sapere se è tutto pronto, sì? Sì, tutto pronto? Può andare? Allora, accendere le telecamere sulla nostra sede? Sì, può andare, via, via. Via. Ma che cosa stanno facendo? Non ci posso credere, stanno già litigando. Tu, sporchi il nome di Arzo, tu sei un ciarlattano sei. Cosa ci fai qua? Non ti vergogli neanche un po' ío, ne scrive un sacco delle etere, dei ringraziamenti di come è aiuto. Mi reparo, la gente, l'ascoltro, il roba. Cosa ci parlare? Tu, cosa dici? Anyora, dai... Sì sta, dai... Dai che adesso nessuno è in trasmissioni? Che è raggiunto figure... Ci sono in trasmissioni, e te lo fai facili super a te. Sì, dai, siamo in diretta. La gente vi sta guardando, Arsochino. Sì, sì, arriviamo. Scusa. Carl. Scusa. Ok, grazie. Ok. Allora, adesso procede l'intervista, dai, su. Nome. Carlino. Cognome. Mars. Arzo. Soprannome. Arzolino. Mago di Ars. Maldicenza. Arzo Marta. Cialatano. Canzone preferita? Quella Arzolin di Fiori, che vinta la montagna. Nati. Arzo. Arzo. Nome della mamma. Artemisia. Artemisia. Nome del padre? Agilufo. Agilufo. Mi sembra che ci siano tante similitudini. Mi lasciamo soli e vi salutiamo e vi ringraziamo. Fratello. Sei mio fratello. Sei mio fratello. Ecco, è stato sicuramente molto emozionante vedere e scoprire alla fine che i due sono fratelli. Certamente l'inizio in cui litigavano non è stato dei migliori, però il finale è stato veramente dietro. Ecco, quindi cogliamo l'occasione per salutarvi e ci auguriamo che possiate salire a bordo del nostro canale dandovi supporto attraverso le iscrizioni che non costano nulla e che vi possono poi anche avvisare cliccando la campanellina di altri nostri video, insomma. Ecco, vi ringraziamo e vi salutiamo nella prossima occasione. Saluti. Ciao.